Benvenuti in un'altra puntata di Woz Plus, versione video della rubrica di Fantascientificast. Ma avete per caso visto qualcosa delle uscite di agosto che vi avevo segnalato la scorsa puntata? In questa puntata si parlerà ovviamente delle prossime uscite di settembre che arriveranno su Netflix, Prime Video e Disney+. Mi spiace non aver trovato nulla di chiaro riguardo alle uscite di Forvid. Non dimenticatevi comunque di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Dai che si parte! Avete per caso notato come ogni mese si aggiungano le cose alle proprie liste da vedere e che poi questi prodotti si perdano nella smisurata vastità delle stesse già pochi giorni dopo facendoli finire in un buco nero delle visualizzazioni mancate? Fresca fresca da poco è arrivata Cobra Kai da YouTube Red. E si è già messa in produzione addirittura una terza stagione. Per noi figli degli anni 80 questo seguito di Karate Kid deve essere assolutamente da vedere. Peccato che la morte di Pat Morita 15 anni fa ci abbia tolto la possibilità di vederlo interpretare un anzianissimo maestro Miyagi in questa serie. In arrivo anche la prima stagione del giovane Wallander, una serie poliziesca che ripercorre le vicissitudini del giovane detective nato una decina d'anni fa sulla BBC. In uscita anche Was It Love? Un dramma coreano che tratta la storia di una madre single da diversi anni a cui appaiono davanti ben quattro spasimanti. Finalmente si appresta ad arrivare a Way, che narra la storia di un comandante donna di una missione triennale su Marte. Con Hillary Swank si tratteranno argomenti come la famiglia e la solitudine nello spazio. Vedremo se manterrà l'interesse sollevato. La seconda stagione di Altro che Caffè sembra essere alle porte, quindi se siete persi le vicissitudini del macellaio kosher che trasforma la sua attività in un coffee shop di marijuana, beh recuperatela. Anche l'ultima stagione di Baby è pronta ad uscire, quindi se vi siete appassionati a questa serie adolescenziale italiana non vi resta che aspettare qualche giorno. Pure la seconda stagione di Criminal, Regno Unito, è uscita a settembre. Vedremo cosa ci riserverà a questa miniserie di tre episodi alla caccia di tre sospetti di crimini gravi in UK. Molto attesa è infine la serie Ratched, basata su qualcuno volò sul nido del cuculo, quindi vediamo cosa nasconderà di così oscuro questa infermiera di un ospedale psichiatrico del 1947 californiano. Ma passiamo alle uscite di film, iniziando subito con Freaks, una di noi, una produzione tedesca che tratta la vita di una cuoca di una tavola calda che scopre di avere superpoteri, chissà, magari terrà uno stile simile a quello di, lo chiamavano, Gig Robo. Della serie Commedia Romantica sarà disponibile Love Guaranteed, che parla di un'avvocatessa che si innamora del suo cliente, che le chiede di fare causa ad una app di incontri. Se volete qualcosa dai toni più horror, guardate, sto pensando di finirla qui, dove una donna raggiunge assieme al suo fidanzato i genitori di lui, sperduti nella loro fattoria. Un film che ha già suscitato polemiche prima della sua uscita è Donne ai primi passi, che tratta della storia di una bambina di 11 anni che vuole unirsi a una compagnia di ballo anticonformista. Chiudono le produzioni originali di Netflix, le strade del male, tratto dall'omonimo romanzo di Pollock di una decina d'anni fa, e il film giallo per giovani adulti Enol Holmes, che tratta delle vicissitudini investigative della fantomatica sorella di Sherlock Holmes. Per completare la parte Netflix è doveroso citare alcune uscite non originali, ma di rilievo, in arrivo a settembre. Abbiamo quindi in arrivo 40 giorni 40 notti, gli Argonauti, il mitico Hudson Oak, il Mago del Furto, Piccoli Brividi 2, Spawn e un milione di modi per morire nel West. Sembra che Prime Video sia totalmente concentrata su una sola serie in questo settembre, e non posso dire che sia un male. Le aspettative per questa seconda stagione di The Boys sono effettivamente alte. Dopo una esplosiva prima stagione, tantissimo splatter, che ha analizzato questi supereroi più umani e meno di buon esempio, non ci resta che vedere cosa succederà ora. Come sempre, la lista di Disney Plus non è particolarmente lunga o avvincente, è totalmente dedicata ad un pubblico abbondantemente sotto la maggiore età. Da segnalare però l'uscita dell'unico e insuperabile Ivan, che parla della storia di un gorilla rinchiuso in una gabbia in un centro commerciale assieme ad altri animali. Per i più piccoli l'arrivo di Frozen 2, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, che assieme al richiamo della foresta basato sulla storia di un cane durante la corsa all'oro in Alaska a fine ottocento, ci accompagna lentamente alla fine del caldo estivo. In ultimo segnalo la società segreta dei principi minori, che forse magari può riservare qualche sorpresa di interesse nei giovani adulti a cui piace l'idea di sviluppare superpotere e ritrovarsi a salvare il mondo. Con questo direi che ho completato la puntata, ho utilizzato tantissime volte la parola vicissitudini, non dimenticatevi di commentare e di dire la vostra, e alla prossima puntata, ciao!